Il corso L'analisi di scenario per anticipare il cambiamento offre un approccio innovativo e strategico per affrontare la complessità e la dinamicità dei contesti attuali. Fornisce al management le competenze necessarie per anticipare il cambiamento, migliorando la resilienza aziendale di fronte a potenziali shock futuri. Attraverso l'uso di tecniche di foresight strategico, il corso stimola risposte organizzative proattive e una valutazione accurata di opzioni strategiche alternative. Inoltre, promuove uno stile di leadership orientato alla gestione della complessità, basato su autonomia, fiducia e feedback continui, potenziando così la capacità decisionale e di adattamento. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.